Buongiorno, benvenuti a Odinesismi. Puntata davvero imperdibile quella di oggi per vari motivi, per i temi che andremo ad affrontare con un Udinese seconda in classifica e soprattutto per gli ospiti che abbiamo oggi in studio. Prima di tutto Antonio Floro Flores e Stefano Martorano, giornalista del Messaggero che conosciamo bene. Buonasera a tutti, buonasera. Bene, tanti temi, quindi partiamo subito per cercare di affrontarli tutti. Antonio, cinque mesi a Udine, quando sei arrivato ti aspettavi di essere già a questo punto in una squadra seconda in classifica o comunque la società è partita parlando di salvezza per cui l'idea era diversa? Che impressione ti sei fatto anche in generale della città, dell'ambiente? No, ma l'idea è sempre quella della salvezza, che è quella della mentalità più giusta. Poi non mi aspettavo perché eravamo tanti giovani e quindi magari un po' di difficoltà ci poteva stare. Invece abbiamo, dopo la sconfitta del Napoli che è stata veramente brutta, siamo ripartiti alla grande. Penso che questo sia merito della società, dell'allenatore, dei giocatori stessi. Del gruppo, certo. Avete creato un gruppo solido che si vede in campo. Bellissimo. Ecco Stefano, anche tu, te l'aspettava un Udinese arrivata alla tredicesima con 25 punti e con la possibilità di andare adesso a Roma la prossima settimana a giocarsi ruolo di anti-Inter? Se dicessi di sì, non mi crederebbe nessuno, quindi no, non me l'aspettavo. Siamo sinceri. Sì, sì. Penso che poche persone se l'aspettavano perché, ripeto, è stata creata una squadra di giovani e magari quindi penso che quasi tutto a Udinese non se l'aspettasse tutto il secondo posto che ci troviamo. Quindi noi lo accogliamo a braccia aperte e speriamo di continuare così nei migliori dei modi. Concordi, chiaramente non si può discordare. Che fosse un gruppo destinato a far bene lo si poteva intuire già in fase di preparazione per la metodologia di lavoro di Marino, cose che stiamo già ripetendo perché insomma è un allenatore che cura molto gli aspetti particolari. Poi è stato risanato il gruppo, quindi erano stati degli ottimi propositi, però effettivamente il risultato è davvero sorprendente, però anche meritato perché i punti sono meritati, sono guadagnati. Del resto, noi l'abbiamo detto anche fin dall'inizio, a livello di stampa locale, si aveva titolato anche da favola il tridente che si stava andando a costruire, non dimenticandoci però che non era solo il tridente che andava in campo ma proprio tutto il reparto d'attacco dell'Udinese. Penso uno dei più forti in assoluto della Serie A ci sei tu, c'è Fabio Quagliarella, c'è Antonio Di Natale, c'è Esamo A, c'è Pepe, c'è Paolucci, quindi qualità e quantità. E la cosa che salta subito all'occhio quando si guardano le partite è che comunque chi gioca dà tutto per la squadra e chi subentra anche a partite in corso, anche te come è successo domenica scorsa contro il Siena, comunque anche se pochi minuti dai tutto ed è una qualità enorme di questa squadra. Quello fa parte sempre del gruppo che ti fanno stare bene, giochi poco oppure giochi tanto e ripeto è importante che ti fanno sentire sempre del gruppo e della squadra e poi penso che alla fine la squadra o chi gioca o io o Pepe o Asamo A, o lo stesso Paolucci che gioca poco ma penso che alla fine chi gioca gioca da tutto se stesso, per il gruppo e per tutto. Ecco Stefano, si parla tanto di gruppo, adesso Pozzo sabato rinnovato con Marino fino al 2012, il grosso dei giocatori tranne Felipe e Obodo si dice che anche loro siano in procinto di firmare, tutto il gruppo è fino al 2012, questo ha una valenza molto importante perché solo le grandi squadre sanno guardare oltre l'anno venturo e adesso si sta andando veramente a costruire qualcosa di importante. Sì, sono i classici segnali perché sono situazioni che legittimano molto di più il lavoro dell'allenatore, è importante proprio perché il tecnico abbia mandato lunga scadenza, proprio perché i giocatori possono anche passare più o meno rapidamente, però quando un giocatore sa che l'allenatore può decidere il suo futuro perché se fa male una stagione l'allenatore può non ritenere all'altezza e lo può cedere e il discorso cambia, quindi un allenatore che ha diciamo carta bianca per tre anni, quattro, e vuole costruire il suo progetto con i suoi tasselli ha molta più autorità, indubbiamente. Ok, parliamo un attimo anche di Antonio, facciamolo conoscere anche come persone, intanto ti riportiamo i saluti di molti utenti anche del nostro sito, che si collegano da Napoli proprio perché si stanno affezionando a una squadra che parla partenopeo, siete in tre, solo partenopeo. Solo partenopeo quasi. Quindi i saluti sono sinceri e sentitevi, fate amare anche per questo, anche dal di fuori. Giusto ringraziarli. Parliamo un attimo di te, tu al di fuori del calcio, sappiamo che hai una famiglia, hai due bimbe piccole, che cosa ti piace fare, che cosa ti piace seguire, quali sono i tuoi hobby extra calcio? No, la Playstation penso è mai l'obbio di tutto, però alla fine se hai un po' di tempo sta con la famiglia e con le bambine, che sono due, quindi è difficile da educarle, quindi passo la maggior parte del tempo e tutto con loro. Per un ragazzo giovane come te, per un calciatore soprattutto, quanto è importante già avere una famiglia, quindi una stabilità affettiva alle spalle, aiuta questo? Io penso che ogni giocatore ha la sua vita, c'è giocatore che se non lo mandi a ballare magari non rende al massimo, c'è giocatore come me che ho provato a fare per quell'altra vita e stavo facendo solo dei danni, quindi da quando è nata mia figlia alla prima penso che sia cambiato proprio totalmente, sono cambiato io totalmente in tutti i sensi e mi è cambiato anche la carriera, perché alla fine ho cominciato a fare bene, ho cominciato a fare gol, quindi penso che è grazie a questo che magari che io mi trovo qua adesso, perché prima ero tutta un'altra persona, un po' ingenuo, un po' tante cose si mettevano insieme, quindi penso che questo per me la famiglia è stato il cambiamento della mia vita. Ecco hai detto che eri un'altra persona, adesso come adesso all'interno di questa udinese che aggettivo useresti per definirti? Tu chi sei all'interno del gruppo? Che figura sei? Quello dell'ignorante, diciamo così, quello dell'ignorante, scherzo, però no, nessun oggettivo, cioè sono un ragazzo che mi piace divertire, scherzo sempre, sto a gioco e ripeto quando non c'è voglia di scherzare entri, oggi non è giornata, cambiamo argomento. Argomento. No, 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 raramente sto nervoso, triste e malingonico, cerco sempre di essere allegro a casa e a campo. Anche perché è strano, Stefano, pensare a un napoletano triste, però ci può stare che magari in una giornata, non è che tutta la vita sta sempre allegro, ci può stare che magari sei un po' triste.